Nome. Thomas Warren Wisenant. Numero vittime. 3. Modus operandi. Stupro, mutilazione, arma da fuoco. Thomas Wisenant nacque il 29 gennaio 1947 in Alabama, Stati Uniti. Crebbe con una madre estremamente severa mai per protettiva. Il padre era assente e sottomesso alla donna, gli andava bene qualsiasi cosa dicesse la moglie. Punivano Thomas anche senza motivo, doveva fare esattamente tutto quello che gli dicevano, come ad esempio, la madre voleva che condividesse la camera da letto con lui per averlo sempre sotto controllo, impaurita che potesse succedergli qualcosa. Non poteva uscire e farsi degli amici. L'unica volta che uscì di casa, se non per andare a scuola, fu una serata di ballo di fine liceo. Non si hanno ulteriori informazioni riguardo la sua infanzia, ma è proprio da questo ambiente familiare che porterà Thomas a odiare le donne, a tal punto da sfogare la sua collera mediante l'omicidio seriale, in quanto, estremamente viziato e solitario, non riusciva a rapportarsi con le ragazze, e, di conseguenza, otteneva solo rifiuti da esse. Dovette allontanarsi dalla madre solo durante la leva militare obbligatoria, e riuscì anche a sposarsi in quel periodo. La moglie era una donna ingengua, sottostava alle regole dell'uomo, il quale era molto violento, psicologicamente e fisicamente nei suoi confronti. È il 16 ottobre 1976. Cheryl Lynn Payton, 23 anni, madre di due bambini, fu rapita dall'uomo mentre si trovava nel suo negozio, sotto minaccia di una pistola calibro .32. Era sera. Caricò di forza la ragazza sul suo furgone e la portò in una zona boschiva. Costrinse la ragazza ad andare nei sedili posteriori, dove poi la stuprò e successivamente le sparò un colpo di pistola alla testa. Scaricò il cadavere a terra e se ne andò per poi ritornare il giorno successivo. Il cadavere giaceva ancora lì. Le tagliò i seni, i capezzoli e le squarciò l'addome. Poi sferrò diversi tagli su tutto il corpo e profonde coltellate. Non si accorse che qualcuno lo stava osservando da lontano. La polizia stava già arrivando quando vide l'uomo allontanarsi dalla scena del crimine. Iniziò l'inseguimento ma fu breve. Thomas Wisenant fu arrestato per l'omicidio di Peyton, ma confessò altri due omicidi avvenuti tempo prima. Le vittime erano, Venora Hyatt e Patricia Hitt. Entrambe le donne non sono state violentate ma uccise con un colpo d'arma da fuoco e successivamente mutilate. Iniziò una serie di processi molto lunghi. Saltò fuori che Thomas era responsabile di aver aggredito fisicamente un membro dell'aeronautica militare e durante l'adolescenza fu obbligato da due ragazze ad avere rapporti sessuali con loro con la minaccia di castrarlo nel caso si fosse rifiutato. Ennesimo motivo, secondo lo psichiatra che lo seguiva durante i processi, di ulteriore odio verso il genere femminile. Il dottor Brown, lo psichiatra, lo diagnosticò come un pazzo temporaneo, in quanto perdeva totalmente il controllo di se stesso durante gli omicidi. Al termine dei processi fu condannato al la pena di morte per gli omicidi di tre persone con aggravante dissadismo. Muore nel 2010 per iniezione letale.